Il sogno che si corona, l'allievo che stringe la mano al suo mito, Bobby Morescu, uno scrittore in erba internazionale, ci auguriamo, visto che le tue storie in Italia ormai incassano miliardi, a questo punto ci auguriamo che tu ti cimenti con il grande cimento internazionale, Brizzi. Prima o poi ci proverò, spero, insomma, quest'anno ho avuto l'onore di essere premiato da lui a Capri, poi non ti ricordi, è stato proprio lui a darmi il premio a Capri, non avevo ancora fatto il 2, quindi ero lì tremante, dico adesso col 2 rovino tutto, invece è andata bene. Senta, Morescu, cosa suggerisce a Brizzi per far diventare le sue storie italiane di interesse internazionale? What do you suggest to Fausto to make his story become global, his local italian story? Yeah, you know, I would suggest to just keep doing what he's doing, he's an artist, he's a filmmaker, he looks into his heart, he tells the story. I don't think he should do anything different but keep finding personal stories. I think you're doing what you should be doing and somehow people will see it if he keeps doing it, that's all, that's all, keep doing what you're doing.